Musica Sarà proiettato dopodomani a Lilton Sorrento Palace alle 21, il docufilm firmato da Raffaele e Lauro sul rapporto tra Sorrento e il grande cantautore bolognese Lucio Dalle. Il racconto per immagini indasce dal romanzo biografico scritto da Lauro, Caruso, The Song, Lucio Dalle e Sorrento. E proprio come il lavoro scritto punta a ricostruire un antico amore, quello tra il musicista e la perla della costiera, una relazione sublimata dalla composizione della canzone italiana forse più rappresentativa degli ultimi anni, ovvero Caruso. Saranno proiettate naturalmente anche immagini inedite.